Ci sarebbero riscontri alle accuse e parecchi nei documenti sequestrati durante le perquisizioni domiciliari effettuate il 6 dicembre scorso a carico di 65 indagati sospettati di aver fatto parte di una organizzazione criminale che truffava le compagnie assicurative con finti incidenti stradali. I carabinieri della compagnia di Brindisi, coordinati dal procuratore aggiunto Antonio Negro e dal sostituto Luca Miceli, con il supporto di alcuni periti, stanno esaminando migliaia di pagine, tra referti medici e certamenti diagnostici, pratiche legali e richieste di risarcimento acquisiti sia in formato cartaceo che digitale. Dalla documentazione sarebbe confermata l'esistenza di decine di casi di truffa, architettati con la regia di un avvocato Brindisino e il supporto di altri suoi colleghi, la complicità fondamentale di un medico del pronto soccorso e di una radiologa dell'ospedale Perrino e di alcuni medici legali, tra i quali uno in servizio presso l'Inail di Brindisi. C'è un altro aspetto importante. Secondo indiscrezioni, alcuni tra gli indagati si sarebbero presentati spontaneamente presso il comando dei carabinieri per rispondere alle domande degli investigatori sui 34 capi di imputazione per i quali ricorre per ben 16 volte l'ipotesi di reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio che riguarda i numerosi medici coinvolti. Al termine della verifica sui documenti sequestrati e degli interrogatori, la procura di Brindisi dovrà valutare se chiedere o meno al GIP l'emissione di misure cautelari nei confronti di una parte degli indagati o procedere direttamente con le richieste di rinvio a giudizio.